Buongiorno e buonasera, qui c'è DoYoshi e siamo su una nuova puntata di Banzai Mario World. L'ultima volta abbiamo avuto a che fare con i comandi che per una certa hanno smesso di funzionare e quindi continuavamo a saltare in giro come dei deficienti e poi siamo riusciti a sistemare ma abbiamo dovuto scortare dei Koopa attraverso dei ponti che sparivano a comando non molto divertente ora come vedete sono successe un po' di cose ho fatto entrambe le uscite di Mario Nice in un precedente tentativo di registrazione il punto è che ho avuto problemi col portatile perché ogni tanto si incanta anche quando sono su un semplice emulatore per SNES e quindi ho deciso che non volevo mostrare un video dove tutto iniziava a laggare perciò intendo ricominciare da qui innanzitutto facciamo velocemente l'uscita normale oddio c'è la segreta che è molto facile la segreta porta allo switch ora facciamo quella normale però voglio comunque andare qua su per saltare in mezzo livello ok vediamo un po' oh Gesù stai sopra grazie oh ok questo è il primo oh Gesù secondo ah lo sapevo nei precedenti tentativi di registrazione non atterravo mai sopra la roccia perché l'itbox era abbastanza buona da lasciarmi lasciare che Yoshi la mangiasse prima che ci atterrassi sopra però chiaramente stavolta dovevo atterrarci ok ah ma salta comunque questa volta potreste notare che l'audio è leggermente migliore questo è perché stavolta sono sul fisso a registrare ho deciso di prendere Banzai e portarlo e portare i dati sul fisso oh madonna non riesco a fare sto salto come risultato come minimo non sentite gli ecchi in sottofondo non riesco a fare sto salto ma scherziamo dai salta oh madonna non riesco a fare sto salto aiuto non riesco mi sa che il problema era ecco mi sa che il problema era che toccavo il soffitto e non dovevo toccare il soffitto vabbè oh per un momento mi sono spaventato mi hanno fatto clipare attraverso il soffitto ok questo è un altro salto bastardo e dobbiamo portare Yoshi là dentro qua in questa fessura ed è molto difficile ci sono riuscito in tre tentativi ma abbiate fede è difficile ok abbiamo praticamente finito quindi dobbiamo aspettare che sto spari andiamo la cosa divertente è che nel precedente tentativo di registrazione ho fatto molta più fatica e arriveremo qua premetto che i due livelli sbloccati da Mario o Nice non li ho visti quindi do in avanti è blind quindi e ne avanti tutto è andato sono incazzato uh dobbiamo passare amico ok allora oh ok no controllavo le hitbox controllavo le hitbox allora oddio no dai non farmi questa cavolo cavolo prima era andato bene coraggio devi sbattere sbatti sbatti contro il muro oh madonna sbatti contro il muro ecco qua vattene bravo cazzo 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 vai su oh bello ok scendi ok uh corri corri aaaaa lo sapevo lo sapevo oddio oddio ma guarda tu ok uh un altro switch fatto bene 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 credo che abbiamo tempo per un altro livello quindi perchè no shape shifting vediamo che cos'è allora trasfono il scusate trasfono il nemico colpendo il blocco on off se certi nemici scompaiono prova a colpire il blocco di nuovo ok oh capisco qui bello carino non andare di là vieni qua qua oddio si ora la questione è non so se la la loro vita si rigenera o cosa qui bello qui 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 oh mi sono impanicato ok adesso ci siamo oh gesù aaa aaa ah ok ok credo di aver capito dai prendi quel stupido pulsante eh ho fatto male ok trovo presto ok ora ci siamo voglio vedere se c'è la cosa ok c'è niente e di grazia che diavolo devo fare lì ah ok mi chiedevo oh gesù oh gesù aaa non vedo niente devo fare una cosa strana ok non chiedetemi con quale criterio si fa con la roba lì il fare in modo che la il guscio non si fermi con un singolo colpo non chiedetemelo perché non lo so amico ok questo è un salto bastardo considerate le hitbox che tendono ad avere i cosi questo è un salto veramente bastardo devo capire un attimo come si fa dai amico ok in corsa no non ho più pali di idea di come arrivarci là sopra sto blocco è posizionato bene ma bene ma veramente bene guarda che roba come si passa aiuto dai è che le hitbox dei blocchi invisibili sono talmente bastarde che li prendo anche quando non dovrei per esempio quest'ultimo salto qua ero completamente galato con un pixel forse ha colpito il blocco mamma mia che salto ehi che salto bastardo non ho visto niente di simile come diavolo faccio aiuto non so come fare oh mi sa che devo fare lo screen perché questa roba è veramente difficile cazzarola torno tra poco ok ce l'ho fatta ho fatto una fatica incredibile ma ce l'ho fatta eh no io non cado lì ok 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 che cacchio non credo di capire oh ho capito ok ah no devo farlo meglio girati perfetto via ok ah ha preso la luna non è andata ok troppo troppo veloce ok calma calma dovrebbe andare vediamo posso troppo no no posso salirci posso salirci devo solo fare salti strani allora e non toccare il muro non toccare il muro e non toccare anche le cozze però il punto è che appena atterro mi impanico e allora non mi ricordo di saltare così ok andata carina ok si mangiati il mio il mio salto perché no sto bastardo si stava si stava mangiando il mio salto allora ok adesso dai oh madonna ok sarà facile via oh dai era ok che diavolo devo fare ho sbagliato non capisco seriamente non capisco questo non fa niente ok e non posso trasformare questa pianta e quindi che diavolo devo fare oh scusatemi non capisco che palle beh che livello stronzo mi sa che lo facciamo la prossima volta perché lì mi sono inchiodato vabbè per il momento questo è tutto questo era Banzai Mario World e io sono Shadow Yoshi se vi è piaciuto se vi potete vedere di più lasciate un commento mettete mi piace o iscrivetevi al mio canale detto questo però abbiamo concluso perciò ci vediamo come sempre in un prossimo video bella a a a a Grazie a tutti